Partiti! 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 Mitrandir ha solo questa immagine e ci svelerà l'idea esatta. Comunque Thunder Black 12, la quota fissa sul campo, sempre un bel cavallo, sempre un gran bel velocista. Quando è in forma qui si batte male. 10 al primo posto, secondo per numero 1 Torchelit e al terzo il numero 3 Mitrandir da Capanelle per la quarta. Pippo! Grazie. 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 Grazie.